Quella che vedete è la seconda prova scritta dell'esame di Stato dell'anno scolastico 2018-19, prova suppletiva, e la prova è di informatica e di sistemi. Importante osservare che c'è una prima parte obbligatoria e ci sono poi dei quesiti, quattro esattamente, e due di questi dovranno essere svolti perché sono anche se obbligatori, a scelta però. Premetto che non c'è un modo unico per risolvere questa prova. Io suggerisco di partire dalla lettura e analisi del testo per farci una prima idea. Allora, la ditta InfoService offre servizi di assistenza hardware e software e consulenza informatica in genere. Quindi si occupa il problema di occuparsi dell'assistenza hardware e software e consulenza informatica. Questa ditta opera a livello regionale, quindi significa, secondo la mia interpretazione, che opera in una sola regione. Non so se questa informazione poi ci verrà utile in qualche modo, però intanto la evidenzio. Questa ditta ha dei dipendenti, ne ha una cinquantina, quindi ci sono dei dipendenti i quali si occupano di settori specifici, assistenza hardware, dispositivi informatici, configurazione di server e relativi servizi, assistenza software e sviluppo di nuove applicazioni su richiesta di clienti, personalizzazione di software già esistenti. Per ottimizzare la gestione degli interventi di assistenza presso i propri clienti, quindi abbiamo degli interventi di assistenza e dei clienti, InfoService ha deciso di sviluppare un sistema di ticketing. Una delle cose più importanti per risolvere problemi di questo tipo è capire il contesto nel quale ci stiamo muovendo, cioè avere una minima conoscenza del dominio. Ora non credo che né io né voi che siete i miei studenti abbiamo esperienza di questo tipo di lavoro. Forse qualcuno, qualcuno viene in mente, ma comunque è un'esperienza che hanno vissuto sicuramente poche persone. Quindi, visto che possiamo, accediamo a internet e andiamo a vedere la definizione di sistema di ticketing. Su Wikipedia viene scritto che si tratta di un sistema informatico che gestisce e registra delle liste di richieste di assistenza o di problemi, organizzato secondo le necessità di chi offre il servizio. I sistemi di registrazione delle richieste vengono usati spesso dai centri di assistenza telefonica per registrare, aggiornare e risolvere i problemi segnalati dai clienti o dagli stessi impiegati dell'azienda. Rientra nel numero degli strumenti utilizzati per interagire con il cliente nella fase di post vendita. Al software potrebbe accedere il centralinista o anche direttamente il cliente. E ancora, un ticket o biglietto serve per tenere il filo di una richiesta. Ad ogni biglietto corrisponde un identificativo univoco che ne consente l'archiviazione e la consultazione in qualunque momento da parte del personale coinvolto nella sua chiusura. I biglietti vengono creati o aperti all'atto della ricezione di una nuova richiesta. L'obiettivo è di chiuderli o risolverli, fornendo la soluzione al problema segnalato. L'origine del termine nasce dall'organizzazione dei centri di assistenza telefonica nei quali il centralinista compilava un bigliettino per il tecnico che lo prendeva in carico e lo restituiva all'operatore telefonico. Ecco, mi sono segnata il link alla pagina Wikipedia dove spiega appunto come funziona questo sistema di ticketing, però andiamo avanti a leggere perché qualche informazione ce la dà anche il testo. Il sistema prevede che i clienti accedendo al portale web attraverso le proprie credenziali possano richiedere interventi di personale tecnico per la risoluzione di problemi di natura, hardware o software relativi ai servizi offerti da InfoService. Quindi i clienti accedono a un portale web utilizzando le proprie credenziali e richiedono interventi di assistenza. Quindi prendo nota del fatto che il cliente invia le richieste solo attraverso il sistema software e non c'è alcun contatto telefonico con il personale, almeno in questo ambito, quindi le richieste di assistenza non vengono mai fatte attraverso l'interazione con un operatore umano. Non è detto che tutte queste osservazioni che sto facendo siano poi utili al svolgimento del tema per soddisfare le richieste presenti nel testo della prova, però mi aiutano a ragionare e costituiscono quella parte che viene solitamente richiesta e che si chiama analisi. La richiesta comporta l'apertura di un ticket nel quale, oltre ai dati del richiedente già presenti in quanto associati al suo account, il cliente descriverà il problema riscontrato per il quale richiede l'intervento. A seconda della problematica, l'intervento verrà effettuato da remoto oppure presso il cliente. Il personale di InfoService addetto all'HelpDesk individuerà il tecnico a cui assegnare il ticket. questo a seconda della problematica che può sembrare ininfluente, in realtà dovrebbe farci riflettere sull'esigenza di andare a classificare le richieste di intervento per poterle soddisfare nel modo più efficiente. e occorre inoltre stabilire, e ci sarà qualcuno che dovrà farlo, se un certo intervento deve essere o può essere effettuato da remoto o bisogna recarsi dal cliente. E c'è questo personale addetto all'HelpDesk che è proprio il personale incaricato di classificare le richieste di intervento che arrivano e oltretutto individuare chi può, il tecnico che può occuparsi del problema e quindi al quale assegnare il ticket. Prendo quindi nota di questa domanda. Le richieste di intervento devono essere classificate in un qualche modo? Al momento non so ancora rispondere. Leggiamo su Wikipedia che cos'è un HelpDesk. L'HelpDesk in genere gestisce le richieste tramite un software di Ticket Management o EO Travel Management che permette di registrare e monitorare le richieste degli utenti aprendo un apposito ticket identificato da un codice identificativo univoco. Una volta preso in carico il ticket, questo passa in lavorazione con l'HelpDesk di primo livello preparato a rispondere alle più comuni domande o fornire soluzioni che spesso compaiono in una FAQ o conoscenze proprie. Se il primo livello è in grado di risolvere il problema, il ticket verrà chiuso immediatamente e unitamente verrà aggiornata la documentazione per consentire agli altri tecnici di HelpDesk di consultare soluzioni già individuate. Quindi anche questo è un obiettivo di un sistema di ticketing. Viceversa, se il problema non è di immediata risoluzione, esso verrà delegato ad un secondo, addirittura a un terzo livello che hanno risorse per gestire problemi più difficili. Ritorno adesso a questa domanda. Ma le richieste di intervento devono essere classificate in un qualche modo? Beh, dopo aver letto qualche cosa sull'HelpDesk e qualche informazione in più sul sistema di ticketing, direi di sì. Da un lato c'è la necessità di organizzare al meglio di interventi, quindi assegnare ai tecnici più specializzati i vari interventi per risolverli nel modo migliore. E poi c'è anche un'altra esigenza che non emerge da questo testo e che consiste nel consentire al personale tecnico di consultare alcune soluzioni che sono già state individuate e quindi adottarle e ridurre anche i tempi di intervento. Quindi, il personale addetto all'HelpDesk individuerà il tecnico a cui vuoi segnare il ticket. Questo significa che il personale addetto all'HelpDesk non si fa carico di risolvere i problemi che sono segnalati dai clienti. Il tecnico, effettuato l'intervento, registrerà immediatamente in un report online l'attività svolta e il tempo impiegato. Se il problema è stato risolto, provvederà a chiudere il ticket, altrimenti questo resterà aperto in attesa di ulteriori interventi. A questo punto occorre farsi delle domande, darsi delle risposte. Intanto, la prima domanda che mi è venuta in mente, ma un ticket può avere bisogno di più interventi prima di essere chiuso? Ma gli interventi sono fatti dallo stesso tecnico che lo ha preso in carico la prima volta? Oppure si susseguono più tecnici a seconda delle particolari problematiche che emergono? E qua devo fare una scelta, devo prendere una decisione. Non avendo un committente con il quale confrontarmi, devo per forza fare un'ipotesi aggiuntiva. Queste sono appunto le ipotesi aggiuntive di cui si parla sempre in queste prove. Io decido che no, per una particolare richiesta da parte di un cliente, possono intervenire più tecnici. Sulla base delle informazioni che ho a disposizione non è detto che questa sia la scelta giusta, non lo posso sapere, ma diciamo che avendo fatto questa ipotesi io poi continuerò la mia progettazione in maniera coerente rispetto appunto a quanto io ho pensato. Quindi avere un unico report per ogni ticket significa che chiunque intervenga utilizzerà lo stesso documento, documento che naturalmente è in formato elettronico. Beh no, io scelgo, anche in questo caso faccio un'ipotesi aggiuntiva, ipotizzo che vi siano più report, uno per ogni intervento, anche perché nel testo c'è scritto che verrà registrato immediatamente un report online ogni volta che il tecnico ha effettuato l'intervento e mi sembra più agevole avere un report differente per ogni intervento. Anche perché immagino che si debba, anche questa è una ipotesi aggiuntiva, che si debba anche indicare quando questo intervento è stato svolto. Quindi ogni report avrà la sua data e anche magari l'orario in cui l'intervento è stato effettuato. Quindi mi segno che ogni report riporta data e orario dell'intervento. Il cliente dovrà convalidare il report, avendo anche la possibilità di esprimere un proprio commento. Allora, altre ipotesi che mi sono venute in mente leggendo il testo. Intanto che il cliente deve ricevere delle notifiche, sia quando viene aperto il ticket e anche quando viene chiuso. Inoltre deve poter anche tracciare l'intervento, quindi accedere in qualunque momento al portale nella sua sezione riservata e andare a vedere a che punto è l'intervento e anche naturalmente accedere al report conclusivo, dove questo report, a differenza di quello che ho detto prima, dove ogni intervento ha un suo report, il report per l'utente in realtà, per il cliente è riepilogativo, non è che vede tutti i vari report separati, ne vede uno solo, che viene composto a partire dai vari report che sono stati elaborati dai tecnici. Inoltre, per quanto riguarda il commento, la cosa più semplice da realizzare è per esempio quella di avere un questionario di gradimento che consente di fare una valutazione sulla base di una scala di valutazione predefinita, giudizi, stelline, non so, cose di questo tipo, e di inserire un eventuale commento libero perché non è detto che l'utente debba per forza esprimere un commento, avendo anche la possibilità di esprimere un proprio commento. Il candidato analizzi la realtà descritta e fatte le opportune ipotesi aggiuntive, appunto ci sono sempre queste, ovviamente, individui una soluzione che a suo motivato giudizio sia la più idonea per sviluppare i seguenti punti. Allora, il primo punto lo saltiamo perché lo state facendo, lo state svolgendo con la mia collega, magari possiamo poi tornarci su per fare qualche commento, qualche osservazione. Andiamo invece al punto che interessa la disciplina che insegno io che è informatica, il progetto della base di dati per la gestione del sistema di ticketing. In particolare si richiede il modello concettuale e il corrispondente modello logico. Anche il punto 3 ci interessa e una raccomandazione è quella di andare sempre a leggere tutto il testo per quanto riguarda la prima parte, la seconda parte poi è un'altra cosa, perché ci potrebbero essere delle richieste che, se tralasciate, potrebbero creare dei problemi nella fase di progettazione, cioè ci sono a volte delle informazioni non proprio esplicite, un po' nascoste, che se non ne teniamo conto poi ci costringono a ritornare sulla progettazione fatta e quindi portano via del tempo e durante una prova d'esame il tempo è fondamentale. quindi vediamo che viene richiesto di sviluppare in SQL le query per ottenere le seguenti informazioni l'elenco dei ticket aperti, riportando il nome del cliente che li ha aperti, la data di apertura e il tecnico che li sta seguendo e poi il tempo medio di chiusura dei ticket completati in un certo intervallo temporale forniti in ingresso. Pensando ai dipendenti ho fatto un ragionamento sull'helpdesk. Allora, cosa succede se il problema è relativamente semplice e si può risolvere subito, istantaneamente? Per esempio, un addetto all'helpdesk potrebbe avere le conoscenze per aiutare il cliente a risolvergli il problema istantaneamente. In questo caso, allora, io ipotizzo che il personale addetto all'helpdesk sia anche se autorizzato ad aprire un ticket e a chiuderlo quasi istantaneamente appena il problema è risolto. Ora sono andata a riepilogare tutte le ipotesi aggiuntive che ho fatto. Rivediamole insieme. Il cliente invia le richieste di intervento attraverso il sistema software e non c'è contatto telefonico con il personale. Le richieste di intervento vengono classificate al fine di organizzare in modo efficiente gli interventi e per facilitare la consultazione di soluzioni già individuate. Il personale addetto all'helpdesk può risolvere il problema segnalato dal cliente senza necessariamente assegnare l'intervento al personale tecnico. In tal caso si avrà comunque l'apertura di un ticket e un report allegato. Un ticket può richiedere più interventi, a opera di tecnici diversi e con modalità diverse, remoto presso il cliente. Ogni intervento relativo allo stesso ticket ha associato un rapporto che riporta data e orario dell'intervento e aggiungerei oltre alla descrizione delle attività svolte il sistema deve notificare il cliente l'apertura e la chiusura del ticket alla chiusura il cliente riceve anche un rapporto riepilogativo Il cliente può seguire il tracciamento dell'intervento accedendo alla sua area riservata Il cliente alla chiusura del ticket viene invitato a compilare un questionario di gradimento che consente di valutare l'intervento in base ad una scala di valutazione predefinita e di inserire un eventuale commento libero Rileggendo il testo e tenendo conto delle ipotesi avanzate ipotesi aggiuntive ho individuato le seguenti funzionalità principali Il sistema deve consentire ad un cliente di registrarsi di effettuare login e logout Al personale, non di registrarsi perché ipotizziamo che ogni dipendente sia dotato delle sue credenziali di accesso fornite a parte senza registrazione quindi dovrà potersi loggare il sistema ed effettuare logout Un'altra funzionalità è la segnalazione quindi il sistema deve consentire al cliente di segnalare il problema Inoltre deve essere possibile da parte dell'addetto all'helpdesk di aprire il ticket e notificare automaticamente al cliente che il ticket è stato aperto e deve essere possibile chiudere il ticket da parte dell'addetto all'helpdesk oppure da parte del personale tecnico notificando automaticamente al cliente la chiusura e inviando il rapporto riepilogativo Il sistema deve inoltre consentire al cliente di effettuare la valutazione dell'intervento Deve essere possibile classificare il ticket in fase di apertura Deve essere possibile assegnare il ticket al personale tecnico Quest'operazione viene fatta dall'addetto all'helpdesk e inserire il report relativo ad un intervento da parte del personale tecnico oppure da parte dell'addetto all'helpdesk Rispetto ad altri esercizi che abbiamo fatto in precedenza vedete che la fase di analisi è un pochino più approfondita Questo perché? Perché il testo in questo caso non ci fornisce molte informazioni in merito per esempio a quelli che sono gli attributi le proprietà da memorizzare per ciascuna entità Le entità sono facilmente individuabili ma gli attributi un po' meno quindi dobbiamo ragionare sulle funzionalità per capire quali sono i dati che ci occorrono Ci sono sicuramente altre funzionalità che non ho preso in considerazione che sono tipiche di qualunque applicazione web per esempio la possibilità per il cliente di andare a recuperare la password quando l'ha dimenticata oppure la possibilità di andare a modificare alcune informazioni del suo profilo e le tralascio perché insomma sono importanti ma in questo momento non rilevanti per il problema che stiamo affrontando quindi do per scontato insomma che ci siano ma non cambiano nulla per quanto riguarda la progettazione del database Allora per quanto riguarda la registrazione del cliente abbiamo ovviamente l'entità cliente e per quanto riguarda gli attributi serviranno il cognome e il nome non il come, il nome poi l'email che fungerà da username la password un identificatore univoco useremo un intero l'indirizzo e il numero di telefono l'indirizzo è necessario perché se bisogna fare degli interventi presso il cliente bisogna sapere dove ergarsi Potrebbero essere necessarie altre informazioni per esempio in questo testo non viene detto nulla in merito ai pagamenti come c'è un contratto di assistenza c'è un pagamento in base agli interventi fatti non viene detto nulla normalmente bisognerebbe anche emorizzare informazioni come la partita IVA oppure il codice fiscale la modalità di pagamento eccetera eccetera ma siccome il tema d'esame non ci chiede niente per quanto riguarda queste problematiche evitiamo di aggiungere altri attributi perché poi renderebbe la prova troppo lunga da svolgere troppo complessa quindi trattandosi solo di un tema d'esame non di una situazione concreta e reale limitiamoci solo a quello che è indispensabile un'altra osservazione che posso fare è relativa alla registrazione del cliente cioè a che cosa dobbiamo chiedere al cliente quando fa la registrazione recentemente quando viene effettuata la registrazione del cliente i dati richiesti sono veramente ridotti al minimi termini per non appesantire questa operazione quindi molto spesso si chiede di inserire il cognome, nome, email e password e poi le altre informazioni vengono completate poi in un secondo momento quando è necessario anche questo è un aspetto di cui bisogna tenere conto per svolgere poi altri punti di questo tema d'esame ma in questo momento non è così importante perché in ogni caso questi dati bisogna memorizzarli per i login cliente e logout cliente non abbiamo nulla da aggiungere invece per il personale abbiamo una situazione simile a quella del cliente anche per il personale quindi dovremo andare a memorizzare informazioni per l'accesso al sistema almeno le credenziali cognome e nome anche per il logout del personale non c'è niente da aggiungere per quanto riguarda la funzionalità 6 e la funzionalità 7 io le considero insieme nel senso che la segnalazione del problema da parte del cliente già registra un ticket che non avrà lo stato aperto avrà uno stato intermedio insomma in attesa una cosa di questo genere lo stato del ticket diventa aperto quando l'addetto andrà a farsene carico quindi direi che qui dobbiamo definire un'entità ticket che avrà una serie di informazioni sicuramente univoco univoco la descrizione del problema da parte dell'utente quindi descrizione una data di segnalazione o richiesta data segnalazione una data di apertura apertura una data di chiusura e eventualmente vediamo se poi ci servirà o meno uno stato uno stato che indica appunto se il ticket è aperto oppure è chiuso oppure non è ancora stato preso in carico quindi il ticket può essere in uno stato sospeso quando il cliente ha fatto la richiesta di intervento però non è ancora stato aperto il ticket quindi è ancora stato formalizzato aperto nel senso che è stato assegnato l'intervento a un tecnico o comunque del personale specializzato chiuso quando finalmente il problema è stato risolto sul punto 8 sulla funzionalità 8 non abbiamo nulla da aggiungere questo rapporto riepilogativo non è un qualche cosa in più memorizzato nel database ma è un veramente un report che viene costruito a partire da tutti i vari rapporti relativi a quel particolare ticket invece la valutazione dell'intervento da parte del cliente in questa fase di analisi non mi sembra che possa essere rappresentata con un'entità ma piuttosto con un'associazione tra il cliente e il ticket poi andremo a vedere se effettivamente è così è un'associazione che però avrà almeno due o tre attributi allora un primo attributo è il voto che viene dato il secondo attributo è il commento inserito e poi è importante anche memorizzare la data di compilazione del questionario per quanto riguarda la funzionalità 10 avremo bisogno di una entità posso chiamarla categoria e questa entità avrà certamente un id univoco e poi il nome della categoria come minimo per quanto riguarda la funzionalità 11 mi sembra opportuno introdurre un'ulteriore entità che chiamo intervento da associare al personale perché se abbiamo detto che un ticket può essere risolto cioè chiuso grazie anche non solo a un unico intervento ma ad una serie di interventi e allora bisogna collegare il personale tecnico non tanto il ticket ma l'intervento effettuato almeno questa è la mia opinione in questo momento ma non è una verità assoluta quindi andrei a memorizzare per l'intervento naturalmente un identificatore univoco poi magari la data dell'intervento la data e anche l'ora inizio e l'ora fine un'ulteriore ipotesi aggiuntiva che mi viene in mente adesso è che per intervento si intende un intervento giornaliero cioè fatto in un'unica data se l'intervento viene fatto in un'altra data si tratta di un nuovo intervento quindi vado ad aggiungere queste ipotesi all'elenco precedente quindi per intervento intendiamo un insieme di attività realizzate senza soluzioni di continuità cioè senza interruzioni eventualmente anche nella stessa giornata quindi possiamo avere magari due interventi nella stessa giornata ad opera anche dello stesso tecnico di tecnici diversi però nel momento in cui c'è un'interruzione per un qualche motivo un intervallo di tempo che trascorre queste vengono considerate come due interventi differenti ma questa è un'ipotesi aggiuntiva non è detto che sia così per forza è un'ipotesi che ho imposto io quindi questa ipotesi giustifica il fatto che per ogni intervento io ho bisogno della data e anche dell'ora di inizio e dell'ora di fine per quanto riguarda la funzionalità 12 in questo momento non so dire se sia meglio un'associazione o un'entità ipotizziamo che sia necessario utilizzare un'entità eventualmente poi la trasformeremo in un'associazione quindi l'entità report questa entità avrà certamente il solito id univoco e poi dovrà contenere una relazione mettiamo in questo diciamo la data della compilazione anche se non è chiaro in questo momento se serva o meno ecco naturalmente avevo dimenticato di scrivere qui in corrispondenza di questa funzionalità l'entità personale e per il personale possiamo anche memorizzare un'altra informazione che è il tipo cioè il tipo di personale se personale tecnico oppure addetto all'help desk ho disegnato le sei entità ticket cliente personale categoria intervento report e inizio a occuparmi dell'operazione che fa il cliente quando chiede assistenza e quindi viene preparato diciamo il ticket non ancora aperto ma preparato definiamo le cardinalità allora se prendiamo un cliente questo cliente quante volte può chiedere assistenza e beh anche zero volte cioè non è detto che il cliente si registri e chiede immediatamente assistenza quindi come cardinalità mettiamo zero e poi naturalmente il cliente può richiedere un numero superiore a uno di interventi un ticket invece è relativo alla richiesta di assistenza di uno ed un solo cliente quindi andremo a inserire come cardinalità 1 virgola 1 abbiamo detto che il ticket appartiene ad una categoria quindi abbiamo ho aggiunto l'associazione appartiene e vediamo le cardinalità dato un ticket questo appartiene ad una ed una sola categoria mentre presa una categoria ad essa possono appartenere fare riferimento più ticket da 1 a n tra ticket e intervento c'è l'associazione comprende un ticket comprende da 1 a n interventi mentre un dato intervento è relativo ad uno ed un solo ticket ogni intervento ha associato un report quindi andiamo a inserire le cardinalità dato un intervento questo ha uno e un solo report associato dato un report questo è relativo ad uno ed un solo intervento dunque in presenza di un'associazione 1 a 1 non opzionale occorre domandarsi se sia il caso di mantenere o meno l'entità ed era proprio il dubbio che mi era sorto nel momento in cui stavo facendo questa analisi ora il report dovrebbe avere un identificatore univoco una relazione quindi il testo scritto dal tecnico o da chi si è fatto carico dell'intervento e anche la data però io nell'ipotesi ho scritto che l'intervento viene svolto senza interruzioni quindi la data dell'intervento e la data del report saranno le stesse per cui diventa superfluo mantenere l'entità report e trasformo questa entità in un semplice attributo che andrò a mettere in intervento quindi elimino report elimino i suoi attributi e qui inserisco l'attributo report intendendo appunto la relazione del tecnico consideriamo ora intervento e personale dato un intervento questo intervento per le ipotesi fatte è svolto da un unico addetto quindi inserisco la cardinalità 1-1 almeno una persona facente parte del personale si dedica all'intervento preso invece un addetto questo può seguire naturalmente un numero superiore a 1 di interventi quindi la cardinalità sarà 1,n dobbiamo prendere ancora in considerazione questa associazione tra cliente e ticket quindi con voto commento e data quindi il cliente valuta il ticket quindi l'associazione valuta ha tre attributi voto e data e commento che a sua volta è opzionale quindi non solo l'associazione opzionale ma anche l'attributo commento opzionale infatti dato un cliente questo può valutare il ticket o anche può non valutarlo quindi la cardinalità sarà 0,1 mentre dato un ticket la valutazione si riferisce cioè è stata fatta da quell'unico cliente quindi la cardinalità è 1,1 adesso non rimane altro da fare che completare lo schema ER aggiungendo gli attributi rivediamo lo schema ER realizzato allora il cliente ha un ID un cognome un nome un email una password un indirizzo un telefono il cliente chiede assistenza attraverso un ticket può chiedere assistenza da 0 a n volte mentre il ticket è relativo a quell'unico cliente il ticket ha un ID una descrizione una data di segnalazione la data in cui è stato segnalato dal cliente il problema data di apertura e data di chiusura che sono opzionali perché l'apertura viene poi stabilita dal personale di help desk che assegna gli interventi ai tecnici e anche la data di chiusura ovviamente è opzionale perché ci sarà inserita solo quando il ticket verrà chiuso e poi uno stato che può essere sospeso quando ancora deve essere formalmente aperto aperto e poi chiuso quando finalmente il problema è risolto il cliente può valutare quindi è opzionale la compilazione di questo scenario può valutare il ticket il ticket è valutato naturalmente da quell'unico cliente e questa associazione valuta a tre attributi il voto la data e il commento che è opzionale il ticket viene associato ad una particolare categoria mentre ad una categoria appartengono da uno a più ticket per ogni ticket si possono fare da uno a n interventi mentre un intervento relativo a quell'unico ticket un intervento ha un id una data un'ora di inizio l'ora fine opzionale verrà messa solo alla fine dell'intervento e poi il report anch'esso opzionale perché fino a quando l'intervento non è terminato il report non viene scritto l'intervento viene svolto da un unico addetto incaricato mentre i vari addetti i tecnici e il personale dell'help desk possono occuparsi di più interventi il personale ha come attributi id cognome nome email password e poi il tipo se si tratta di personale tecnico o addetto all'help desk come ultima cosa verifichiamo se con questo diagramma R riusciamo a rispondere alle ulteriori richieste quelle relative alle SQL allora si vuole trovare l'elenco dei ticket attualmente aperti e questa è un'informazione presente nel ticket quindi sappiamo se il ticket è aperto o no si poteva non inserire questa informazione e andare a vedere per esempio quali ticket avevano una data di chiusura uguale a null però in questo modo diventa più semplice riportando il nome del cliente che li ha aperti e questa è un'informazione che riusciamo a recuperare attraverso questa associazione assistenza e poi la data di apertura anche questa informazione è presente nel ticket e il tecnico che li sta eseguendo dal ticket possiamo navigare fino ad arrivare al tecnico che si sta occupando di quel ticket in realtà risaliamo tutti i tecnici se vogliamo sapere qual è in quel momento attivo basta guardare l'ora di fine dell'intervento e considerare solo l'intervento che non è ancora stato terminato per quanto riguarda la seconda query purtroppo ci mancano delle informazioni perché si parla di intervello temporale fornito in ingresso però non è specificato se questo intervallo temporale è un intervallo di date date ore non si sa quindi bisogna fare delle ulteriori ipotesi aggiuntive quindi la mia ipotesi aggiuntiva è che l'intervallo temporale fornito in ingresso per la determinazione del tempo medio di chiusura dei ticket e un intervallo di date inoltre si può osservare che per semplificare un po' la query possiamo aggiungere al ticket un attributo che contiene come valore il tempo di chiusura dei ticket in giorni questo attributo non è assolutamente necessario perché è possibile ricavare la durata del ticket facendo la differenza tra queste due date data di apertura e data di chiusura ricavando quindi giorni tuttavia in assenza di altre informazioni non è certamente un errore aggiungere questo attributo e può facilitare di molto il compito quindi adesso andrò a modificare le R aggiungendo l'attributo e considereremo le due versioni aggiungo quindi a ticket l'attributo durata solo nella seconda versione e quindi lo schema R è praticamente identico tranne per il fatto che ho aggiunto questo attributo a ticket attributo opzionale perché naturalmente fino a quando non viene chiuso il ticket la durata non è calcolabile bene mi fermo qui e nel prossimo video vedremo come tradurre questo schema anzi questi due schemi nel corrispondente schema logico relazionale grazie a tutti